Durante un'intervista al Corriere della Sera riguardante il suo ultimo romanzo, Michela Murgia ha rivelato di essere affetta da un carcinoma renale al quarto stadio. Attualmente la scrittrice sta seguendo un trattamento di immunoterapia basato su biofarmaci che stimolano la risposta del suo sistema immunitario senza attaccare direttamente la malattia. Nonostante sia consapevole che la cura non potrà sradicare completamente il male, l'obiettivo principale è guadagnare tempo prezioso per vivere la sua vita. Murgia ha spiegato che operarsi non avrebbe alcun senso dato che le metastasi si sono già diffuse ai polmoni, alle ossa e al cervello.